Ciao, benvenuti a questo video sulla luna piena in Sagittario. Da noi il 24 maggio 2024 a 14 gradi 45 minuti nel segno del Sagittario. Naturalmente siamo, per quanto riguarda l'Italia, sul grado del grande attrattore, questa anomalia galattica che appare come un paradosso tra ciò che si respinge e ciò che si attrae. Maggio inizia con dei picchi d'onda enormi dell'attività solare e in questo istante, diciamo in questo presente di registrazione, siamo nel bel mezzo di una delle più potenti tempeste geomagnetiche mai registrate, che avrà appunto il suo culmine su picco massimo, diciamo fino intorno al 13, dicono gli astrofisici, ma noi consideriamo fino al 15 di maggio. Brillamenti senza precedenti, tempeste geomagnetiche conseguenti e naturalmente anche i sintomi fisici intensi, la difficoltà nel sonno, le irregolarità del nostro flusso energetico, vari dolori e sintomatologie fisiche, anche potenziali infiammazioni e in ogni caso sappiamo che questi sono comunque elementi necessari a una rapida evoluzione come quella che sta attraversando l'umanità e che in questo presente sincronico passa per questo secondo chakra, per il chakra sacrale e chakra che naturalmente è anche il ponte di collegamento tra noi e Dio, tra noi e il cosmo, è diciamo quella residenza simbolica di una sorta di cordone umbilicale tra noi e il tutto. Il picco del sole, questo apice che segna la fine del 25esimo ciclo solare era stato previsto per il 2025, ma dai rilevamenti tecnici appunto dell'attività solare possiamo tranquillamente dire che siamo all'apice massimo della potenza e quindi il cambio di ciclo è ormai prossimo, qui c'è un invito a creare le nostre esperienze tenendo presente il nostro chakra sacrale, quindi che fluiscano con i nostri desideri e che fluiscano col nostro potere creativo potendo quindi alimentare la frequenza della gioia e della felicità e quindi deliziarci in questo senso il chakra sacrale è legato anche naturalmente ai sensi, alla sensualità, quindi è una delizia che coinvolge anche il corpo e che è sicuramente collegata al nostro potere creativo di manifestare prosperità, successo e abbondanza nelle nostre vite. cambio ciclo imminente, brillamenti di classe X e di classe M, i punti più attivi del sole in questa fase sono quelli proprio rivolti verso la terra, viene suggerito naturalmente di fluire cavalcando le onde di questa attività solare nella forma più pacifica possibile per se stessi e gli altri, considerando che noi stessi e gli altri abbiamo tutti, come dire, i nostri nodi da sciogliere, le nostre potenziali sfide da risolvere da un punto di vista energetico. la seconda metà di maggio vedrà naturalmente protagonista Giove che entra in Gemelli il 25 di maggio, il grande benefico con le sue proprietà proprio di successo, di liberazione, di prosperità e di salute, di espansione, espansione dell'amore universale naturalmente che viene portato in evidenza attivando la connessione tra gli uni e gli altri e tra tutte le creature, un cantico d'amore universale al nostro pianeta, a tutta l'esistenza in quanto tale. L'espansione di Giove c'è da dire che avviene in generale quindi sia che trovi un terreno positivo sia che trovi un terreno negativo e quindi naturalmente la tendenza è a migliorare ma occorre tenere presente questo aspetto per far trovare un terreno quanto più favorevole perché possa essere espanso nel bene nella positività in maniera tale appunto che non vengano espanse le problematiche ma le soluzioni e questo esula come dire oltre val di là della situazione contingente e contestuale di ciascuno perché viene messo in atto con l'approccio della nostra coscienza quando diretta sull'una entità del problema o su quella della soluzione naturalmente. La congiunzione di Giove e Urano dello scorso 20-21 aprile innesca un altro ciclo di 14 anni, l'ultima fu nel 2010 ed espande naturalmente l'attività solare e anche l'instabilità geomagnetica appunto Giove e Urano coinvolti nel toro, segno di terra per eccellenza primo passaggio diciamo nella materia amplificando l'attività nucleare del pianeta amplificando la potenziale energia miracolo che viene portata sull'onda dell'amore universale e la nostra fede in noi stessi come parte della sorgente divina e quindi anche la rafforza e potenzia ed espande Giove in questa unione la nostra capacità di credere che tutto sia possibile e quindi ricordare che siamo le risonanze della campana divina, siamo le onde concentriche sinusoidali su una superficie generate da una sorgente profonda naturalmente l'attività del nucleo del pianeta è sollecitata sia dall'attività solare che da quella degli astri e degli oggetti cosmici che transitano il nostro sistema solare naturalmente anche da quelle che sono le interazioni con gli asteroidi in questo momento diciamo dell'umanità c'è una risonanza con le muria come luogo ideale di una età dell'oro verso la quale siamo diretti nuovamente stiamo ritornando, un ritorno è come un pendolo appunto che sta per eseguire il movimento opposto a quello che è stato fino adesso e quindi a rientrare nelle braccia della grazia a ritornare sulla frequenza dell'amore e quindi poter cambiare questa frequenza perché sulla frequenza attuale è difficile vedere quello che è al contempo vivo in un'altra frequenza proprio per un fattore di sintonizzazione quando si è sintonizzati su un'altra stazione radio possiamo dire un'altra banda di frequenza onde lunghe, onde medie, FM ed AM in questo caso siamo a parlare di onde cosmiche di raggi gamma e neutrino in particolare il 13 di maggio avremo l'annuale congiunzione del sole e di urano e viene a essere come dire evidenziato con l'elemento del cambiamento l'innesco di un cambiamento apprezzare il rilascio del vecchio ed accogliere la nascita del nuovo questo sarà un momento di svolta per la coscienza umana perché avremo la possibilità di lavorare su multibanda spezzare patterns uscire dagli schemi dalle scatolette delle definizioni incluso quelle delle carte natali ovvero trascenderle per via appunto forse più trascensionale che trascendentale il 17 di maggio Mercurio sarà in toro quadrato a Plutone in acquario l'informazione nascosta viene alla luce dentro e fuori di noi potenzialmente e Plutone indica, mostra e Mercurio comunica e scava il 18 di maggio qui il viaggio tantrico come primo principio della termodinamica e naturalmente su questi chakra e quindi un invito ad utilizzare le porte dei sensi un po' così come ci ricordava Aldous Huxley come porte della percezione di una dimensione che li trascende c'è un'espansione di coscienza perché una congiunzione quadrupla nel segno del toro col sole congiunto a Giove e venere congiunta a Urano rispettivamente 28 gradi e 23 del toro quelli interessati una relazione può apparire dal nulla e viceversa in una relazione può percepirsi in sofferenza, legame, desiderio di libertà, di indipendenza Sedna nel frattempo è entrata in Gemelli vi rimarrà fino al 2067 quindi una quarantina d'anni e sarà assolutamente catartico il suo passaggio nella terza casa metamorfosi della parola e ad opera della parola anche metamorfosi di reti, comunicazioni Sedna è nella casa dell'informazione ed è anche nella casa potremmo dire della informazione nel senso nel pieno di quello che il Seferd Yezirah insegna rispetto al processo co-creativo e una nuova specie umana sarà la risultante di questo processo e nel 2025 e 2026 quando anche Urano entrerà in Gemelli potremo avere un'idea una sorta di assaggio di quelli che saranno poi i risultati del nostro discernimento i risultati per l'umanità e la sua evoluzione in particolare appunto scelta e polarizzazione e anche trarre deduzioni ovvie dalla congiunzione appunto con Sedna naturalmente implica una revisione di tutti i sistemi conservatori patriarcali in cui ci sia un rapporto polare inequo o iniquo o in ogni caso sbilanciato la connessione galattica sarà amplificata e in particolare anche inizierà questa amplificazione con la luna piena in Sagittario che è comunque il segno in cui risiede a 27 gradi il centro galattico quindi con tutto lo scarico di informazioni da questa sorgente centrale e questa connessione galattica amplificata come i codici in ingresso sulla coscienza umana codici che riguardano il fiore cosmico il fiore della vita l'attivazione della nostra memoria della vera origine della vera casa del principio il cuore del nostro della nostra meraviglia della meraviglia divina del nostro essere e la nostra riconnessione con l'unità del cosmo avrà la possibilità di brillare e diventare una realtà concreta la luna piena in Sagittario naturalmente vede il sole opposto in gemelli è quasi perfettamente opposta al medium cieli e quindi e mette in evidenza quella che è anche un'azione su un campo collettivo da parte del singolo individuo le lune piene in se stesse portano l'idea delle conclusioni qui c'è l'idea di un potenziamento che viene portata in evidenza in questa sincronicità di parola la capacità di essere pienamente completamente uniti in noi stessi e con gli altri nella piena fede che siamo tutti connessi attraverso la stessa sorgente naturalmente appunto la sorgente galattica si fa metafora di una sorgente divina in questo senso in questo momento potremmo avere naturalmente un quadro più chiaro diventare più pienamente consapevoli di quello che è mancato o che è mancante nella nostra vita in particolare in relazione all'espansione della conoscenza all'apprendimento perché il Sagittario gemelli è comunque l'asse considerato un maestro discepolo l'avventura il viaggio la comunicazione la condivisione le esperienze le espansioni del proprio campo da gioco la polarità del sole in gemelli e della luna in Sagittario è un asse mentale i gemelli rappresentano la mente inferiore e il Sagittario rappresenta la mente superiore sulle quali arriva la carta della coerenza come a dirci la mente inferiore che è il nostro cervello e la mente superiore che è il nostro cuore siano allineati il più possibile per mantenere un campo di coerenza che non è semplicemente ideale e figurato ma è fisico in senso di campo neurocardiologico e della sua è detto anche appunto campo di coerenza che è fondamentale diciamo per massimizzare la nostra capacità anche di realizzazione e per diffondere come dire una realizzazione benefica anche fuori di noi via irradiante per irradiazione il sole in gemelli ci incoraggia a pensare in maniera logica razionale mentre la luna in Sagittario ci persuade ci invita a pensare in maniera più grande più in grande più espansa più ampia ampliare gli orizzonti il Sagittario naturalmente e ampliare gli orizzonti implica la ricerca personale rispetto ai propri dubbi rispetto alle proprie incertezze alle proprie curiosità e quindi è un'esplorazione personale e quindi una ricerca che si conduce in maniera individuale in questo senso è la nostra volontà individuale che ci spinge alla ricerca e la facciamo in prima persona il Sagittario è il simbolo anche della ricerca di significato la conoscenza e le idee che si espandono nel qui e nell'ora l'amore romantico portato all'attenzione su queste parole ovvero l'idea di arrivare a un'unità degli opposti a un'unità dei poli l'idea della complementarietà complementari e sinergici e questo naturalmente come rapporto interiore che si riflette proiettato in una realtà esterna l'amore romantico naturalmente sul chakra sacrale la delizia il viaggio tantrico il discernimento con un principio centrale di amore universale basato sul fiore della vita e la frequenza miracolo che è la nostro potenziamento e che è un cambiamento miracoloso dettato dal campo di coerenza neurocardiologico dell'uomone e del pianeta come uno naturalmente per alcuni può essere rappresentato nelle proprie esperienze pratiche personali anche come dicevamo dall'ingresso di una relazione che abbia queste caratteristiche come proiezione di quanto si sta dicendo sullo schermo delle esperienze fenomenologiche possiamo dire e questa conoscenza e queste idee si espandono in questo qui e ora i gemelli sono a loro agio nell'ambiente in cui si trovano il sagittario però ci chiede di uscire e di espandere l'ambiente in cui ci troviamo e quindi esplorare nuove possibilità per noi avventurarci oltre quello che è il conosciuto il familiare in questo senso appoggiando la spinta uraniana sia da un punto di vista planetario astronomico e astrologico ma sia anche da un punto di vista simbolico di cambio dell'era questa luna piena riguarda sicuramente la comunicazione e la memoria la memoria di chi veramente siamo come detto viene riattivata riguarda l'atteggiamento verso gli eventi e il nostro senso di avventura e ci invita ad esplorare non solo esplorazione della mente e della coscienza superiore ma sul potenziamento della frequenza miracolo e sui miracoli che si potenziano nel campo grazie all'opera divina che ci chiede di essere a immagine e somiglianza il nostro plesso solare che viene portato all'attenzione il potere di fare miracoli la certezza che possiamo fare miracoli il nostro senso del sé di potere personale la nostra forza di volontà e così la nostra conoscenza di chi veramente siamo e di quale contributo possiamo dare al tutto e quindi è una responsabilità individuale come si dice appunto sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e questa esplorazione appunto non è solo della mente della conoscenza superiore ma è anche di nuovi orizzonti veri e propri lunghe distanze viaggi oltreoceano viaggi che attraversano come dire il pianeta da parte a parte l'idea della freccia anche molto del sagittario portata all'attenzione tra una parte e l'altra del globo è una freccia di risonanza e di direzione di focalizzazione si aprono panoramiche di possibili futuri e i nostri sistemi di credenza vengono chiamati ad emergere la nostra forza di volontà il nostro potere e il potere della compassione che diventa come dire il motore del cambiamento un amore incondizionale che fluisce dalla sorgente attraverso il nostro cuore e nella diciamo coerenza del nostro cuore della nostra mente si riversa nel mondo i nostri sistemi di credenza emergono attraverso appunto l'espansione della compassione e della visione e mostrano anche appunto quei sistemi di credenza in noi integrati che sfuggono la coscienza la nostra coscienza inferiore o alla nostra coscienza inferiore proprio perché sono profondamente integrati e questo è il tempo dell'anima abbracciare il concetto e ricordare che non siamo solo un corpo mortale ma che siamo anche un infinito senza limiti senza tempo immortale anima divina e naturalmente sistemi costruiti nell'infanzia informazioni assorbite che non sono state passate al setaccio del discernimento al baglio della coscienza perché magari appunto in questa fase dell'infanzia ignoriamo questo passaggio tendenzialmente a parte i nuovi arrivati che sono come dire più informati di noi ma anche grazie al nostro lavoro in questo senso di memoria che ricordano meglio la loro origine e in questo momento è chiesta una maturazione di un sistema di credenza individuale che sia autentico originale che sia proprio del nostro io sono e io sono il tutto e questo io sono paradossalmente per essere unitario non dipende dalle concezioni o dalle opinioni o dalle appunto dalle opinioni o dalle concezioni degli altri c'è un concepimento di vero sé che viene partorito da se stesso a una realtà dimensionale totalmente nuova ed è vero anche che siamo il prodotto delle informazioni dei nostri ancestri custodite nelle nostre cellule nella memoria dell'acqua del nostro corpo codificate nel nostro DNA e questo è il momento appunto in cui andiamo a rivedere resettare riformare o anche aggiornare le informazioni in questo nostro codice genetico umano ora qui il sagittario ci chiama alla decodifica e alla selezione di quello che è sincronico e di quello che è anacronico di quello che è vero per noi oppure no sulla base del bagaglio di esperienze personali e non sul bagaglio delle esperienze di un altro o sulla base di un giudizio tra giusto e sbagliato tra ragione e torto potrebbe essere una cosa che noi possiamo ritenere per noi non buona o non corretta o non funzionale o non utile potrebbe esserlo per un altro e questo non implica quindi che quella cosa in sé sia buona o cattiva buono o cattivo è l'uso e l'effetto che quella cosa produce sul campo individuale questa magia anche di un campo che interconnesse unito in cui le parti sono comunque autonome e indipendenti e quindi non vogliamo naturalmente essere cellule impazzite in questo corpo unico naturalmente con l'apertura mentale che viene a essere sostenuta dalla luna siamo chiamati a esplorare e questa è l'esplorazione di un cosmo interiore che porta una concezione che è non solo il concepimento di una nuova vita ed è anche la concezione di un'idea come nuova vita ed è appunto una nuova concezione un luogo in cui inizia una nuova creazione che ci aiuta a ricordare l'infinito potenziale possibilità di questo spazio e quello che possiamo manifestare attraverso la nostra consapevolezza focalizzata così come il sagittario insegna puntando il bersaglio e la nostra intenzione e l'essere uno con l'arco che è l'arco secondo e che è l'arco di volta e che è l'arco del veicolo che trasporta e che è l'arco anche non solo l'arcolaio di un potenziale tessitura ma è anche il ponte appunto tra noi e il divino in noi e questo anche ci riallaccia naturalmente a quel famoso libro di Errigel e lo zen e il tiro con l'arco Plutone retrogrado nell'acquario chiede di investigare introspettivamente riportando alla luce terre sconosciute e sommerse anche in senso letterale come memorie recuperate dall'acqua in noi e anche per appunto riversare l'acqua della vita nella dodicesima casa dei pesci che è diciamo il compito di quell'anfora del segno dell'acquario e quindi la dodicesima casa che è quella della spiritualità dell'infinito della massima espansione pensare in maniera espansa è l'istruzione ed è anche l'intuizione Nettuno e Saturno invitano la casa dei pesci come ad una responsabilità come ad un'azione pratica e responsabile che esprime se stessa portando i sogni miracoli il cambiamento e le idee concepite nella forma la concezione che diventa forma con naturalmente la saggezza di questa formazione che viene colta quando più possibile ci affidiamo alla nostra conoscenza interiore che non è nostra ma che è divina liberarsi dalle illusioni dalle tossicità dalle nostre vie di fuga dalle astrazioni dai giudizi sulle scelte degli altri come se ci fosse un'idea di giusto sbagliato di ragione o torto appunto quando invece sono semplicemente funzioni e naturalmente non procediamo per astrazioni che non sono astrali ma ci dividono in fondo dal nostro cammino l'astrale in questo caso è la freccia che ci conduce verso una casa di spiritualità che è quella della luce infinita dello spirito della liberazione dal karma e quindi vogliamo usare il potenziale offerto dalle nostre ombre per metterle in luce per trasformarle appunto in funzione del chakra della radice in questo caso e quindi della nostra del nostro pianeta della nostra terra e in funzione della guarigione di quei meccanismi di prevaricazione e prepotenza che governano il mondo con cui diciamo scegliere la luce co-creatrice con la quale vogliamo lavorare e se discernere se le nostre idee e concezioni sono basate su paura insicurezza e su meccanismi di sopravvivenza ancestrali e quindi anche a livello di informazioni coscienti che scegliamo di applicare scovando le informazioni erronee gli impostori e le posture e le maschere quindi che si assumono agenti impostori che si proiettano in esperienza nel campo da gioco comportamenti automatici automatismi parassitari reazioni che diventano riflessi incondizionati la responsabilità della propria essenza spirituale entra nella sinergia tra il chakra della radice e il chakra del cuore in questa sincronicità in cui stiamo parlando e naturalmente nella relazione tra la luna in sagittario il sole venere in gemelli lo stellium in toro con mercurio giove urano e charis mentre chirone che è anche il futuro che il nodo nord in sé rappresenta sono in ariete nella prima casa quella dell'inizio di un nuovo giro il riinizio la riiniziazione la rivoluzione rievoluzione ricominciamo come cantava il vecchio se non sbaglio chi era pappalardo credo comunque un'umanità che è un io sono all'unisono o unisono come va pronunciato chirone e il nodo nord intrigono alla luna e che in questo senso ci riallacciano anche ai due testimoni dell'apocalisse con l'instaurazione del regno di dio sulla terra ad opera di una nazione che è risvegliata nella sua divina discendenza e questo nodo nord in mano al centauro guaritore è anche il testimone di una staffetta fotonica di pacchetti di informazione che passano da un'era all'altra e che viene a essere messa sotto la lente di giove per la fine di un'umanità malata dalla bestia tra virgolette e i suoi idoli la coscienza animale inferiore le illusioni i falsi valori le paure le compulsioni e un nuovo inizio di un'umanità guarita nel cuore risalvata risanata salus ricordiamo che la stessa radice di salvezza oltre che di salute viene suggerito come già si suggeriva tempo fa che siamo files oltre che figli di dio e del logos divino quindi siamo files di log salvati con nome nel libro della vita e in tale memoria madre conservati intatti e da questi files estraiamo l'osservazione necessaria a correggere il crash del sistema operativo umano il sob sistema operativo della bestia tra virgolette che sob è interessante perché è un singhiozzo un lamento come tipo di parola in inglese viene usato come onomatopea nei fumetti sob sob il sobbing che è quello di singhiozzare stop your sobbing cantava John Jett se non ricordo male e in ogni caso appunto fare non fare le partizioni ma usare il sistema operativo divino che è il sob invece quella dalet quella di finale che significa in ebraico in ogni caso segreto questo acrostico a livello di parola e quindi usare il sistema umano che per libero arbitrio sceglie di non operare più in maniera indipendente dal sistema operativo divino ma riscopre che lavorando in discendenza come un menù a cascata o un menù a tendina a velo un velo di maia un menù a maia o come suo libro attivista diciamo se non vogliamo parlare di assunzione celesti come dipendenti diretti del padre eterno e quindi Nettuno e Saturno in dodicesima casa vengono a sottolineare questo e questa scelta deriva dall'osservazione oggettiva che il sistema funziona meglio è più fluido è più veloce è automaticamente più protetto più performante ed efficiente anche il processore delle informazioni e si viaggia a velocità della luce su fibra triottica del terzo tipo con il sistema operativo divino che è anche quello collegato appunto al nostro terzo occhio e questa attivazione del sistema operativo divino naturalmente coincide con la luna piena in sagittario viene portata all'attenzione anche Iesod a livello di sefirot Iesod è la sefira dell'inconscio e in questa sincronicità linguistica e diciamo meta linguistica e fonetica Iesod è il segreto perché Sod abbiamo detto oltre che sistema operativo divino di cui si è parlato significa in sé segreto e Ie naturalmente oltre a riallacciarsi alla Iod e Iod EI che è praticamente un'abbreviazione del tetragramma che indica il nome divino è anche Yeshua lo stesso Yeshua ed è lo stesso appunto Yeshua che parla a Mosè dal cespuglio bruciante nei termini di Eie Asher Eie io sono colui che sono il fuoco dell'essere divino rivelato nell'uomo che viene trasmesso dall'istruzione del maestro a noi come lo fu a Mosè e ai profeti nostri ancestri e naturalmente Iod è anche una configurazione astrologica importante in questa luna e quindi la osserveremo naturalmente il sistema operativo divino su cui sto strutturando un corso vero e proprio è basato sulla sincronaca e le sincronache delle nostre esperienze delle nostre vite che sono sintattiche sinottiche e sinergiche viene chiesta un'espansione di Dat a livello di Sephiroth Dat è la sefira della conoscenza ora il sefiroth al plurale è maschile sefira è femminile quindi io in questo caso italianizzando potrei usare il femminile o il maschile per il plurale indifferentemente ma in ogni caso che cos'è Dat nel misticismo ebraico conosciuto come Kabbalah Dat è la conoscenza ovvero il luogo o stato mistico dove tutti e dieci sefiroth dell'albero della vita sono uniti come una cosa sola e arrendiamoci a questa dolcezza l'energia di venere che viene su queste parole a portare gioia e fai l'amore alla vita viene a chiarire questo rapporto tra il chakra sacrale la delizia il viaggio tantrico e l'amore romantico ve li metto un attimo qui in evidenza con fai l'amore alla vita scusatemi che poi ritroverò un ordine di queste di queste carte ma ritornando a Dat tutti i sefirot esistono nel loro stato perfetto di condivisione infinita e si uniscono in Dat in una cosa sola i tre sefirot della colonna di sinistra che sono quelli relativi all'occultamento della luce divina che la ricevono e la nascondono la colonna della severità anche in Dat la condividono e la rivelano poiché appunto tutti i sefirot irradiano luce divina infinitamente donante non si distingue più una sefira dall'altra quindi sono uno e la rivelazione o l'occultamento della luce divina che risplende attraverso la sefira della conoscenza attraverso Dat non avviene solo in Dat ma può apparire anche negli affari mondani in Malkuth da una prospettiva umana la percezione della luce divina splendente può verificarsi chiaramente anche in Malkuth quando sentiamo questa ricezione luminosa questa comunicazione e connessione con Keter con la nostra natura più alta Dat perché un albero della vita universale è comunque risonante negli alberi della vita individuali che precedono e prescindono dal nostro albero genetico genealogico perché sono direttamente collegati al fiore cosmico che nasce dall'albero della vita come dire Dat propriamente non è una sefira viene considerata anche la sefira misteriosa segreta nascosta perché rappresenta tutti e dieci sefirot uniti come una cosa sola a volte viene addirittura come dire considerata come alternativa di Keter dalla prospettiva del finito dell'uomo della creazione finita e non infinita quindi quindi dalla prospettiva del limite e Dat viene utilizzata per rappresentare il riflesso di o la proiezione o la dimensione interiore che si riflette nelle altre dimensioni ed è questo riflesso questa proiezione questa dimensione interiore l'infinità di Keter che si manifesta nella creazione finita quindi Dat appare nella configurazione delle sefirot lungo l'asse centrale direttamente sotto Keter e diciamo precedente Tiferet la nostra anima e il nostro cuore ed è considerata la porta del giardino in terra del paradiso terrestre e corrisponde all'immagine di Dio rispetto alla quale viene detto noi siamo noi siamo fatti diciamo i conteggi delle sefirot producono dieci poteri non nove come dire non undici secondo il sefir Yezirah dieci come Yod dieci come la rettificazione il Tikkun e includono Keter o Dat in alcuni schemi Dat viene lasciato nascosto così come anche per esempio in diciamo nella Calabasa in spagnolo è la zucca la nostra zucca così per esempio Cordovero nasconde Dat e anche il Luria nasconde Keter Cordovero definisce l'albero della vita le sefirot che lo compongono questi rami come una luce su dieci vasi e ogni sefirot è bene tener presente che ha in sé anche altre dieci ripete continuamente frattalmente lo schema dell'albero centrale Luria si allaccia a questo ma i sefirot che iniziano con la saggezza divina per descrivere le dimensioni esterne lo stato spirituale corrispondente alla sefira di Dat viene detto unificazione e secondo diciamo quella che è l'opera iniziale della filosofia chassidica dal rabbino Schneur Zalman di Liadi fondatore dello chassidismo Chabad il Tania pubblicato per la prima volta nel 1796 e il cui titolo formale è Likutei Amarim raccolta di dichiarazioni ci informa che Dat è il terzo e più nascosto potere inconscio dell'intelletto ma in questo contesto e naturalmente qui c'è una corrispondenza con i quattro livelli di lettura della Torah chiaramente ma in questo contesto in realtà è l'aspetto divino di Dat che pertiene a Zeirampin che è il figlio e rappresentato come l'unione appunto alla personificazione delle sei sefirot che vanno da Hesed a Iesod e che incarna in se stesso figlio di Dio le proprie dieci sefirot è il proprio Dat è connesso direttamente al Dat superiore dell'uomo cosmico Adam Kadmon detto Zeirampin il figlio personifica incarna la rivelazione della Torah e si riferisce al secondo livello dell'anima umana chiamato spirito Ruach che corrisponde agli aspetti mentali tra cui la ragione e l'emozione e di conseguenza Dat è associato nell'anima con i poteri della memoria della concentrazione poteri che si basano sul proprio riconoscimento akara e sulla sensibilità verso il potenziale significato di queste idee generate nella coscienza dai poteri della sapienza e della comprensione della seconda e della terza sefira viene portato all'attenzione in merito e quindi come dire come parte nascosta di quanto si sta dicendo un passaggio del profeta Osea useremo esprimere questo passaggio come degli uccelli che volano con il loro messaggio e questo passaggio che è il capitolo 13 verso 4 dice molto semplicemente io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d'Egitto non devi conoscere altro Dio fuori di me non c'è Salvatore fuori di me questo è lo stesso Salvatore Cristo non c'è differenza tra Dio e Cristo e tra Dio e il figlio in questo senso ed è un come dire quello che viene espresso qui è proprio il fattore della riconoscenza come per dire si riconoscente diventa servitore come si usava nelle favole chi ti salvava la vita tu diventavi come dire come i geni quando vengono liberati dalla bottiglia appunto diventano il tuo genio come aveva Socrate il suo Daimon e un altro passaggio interessante in questa fase del Sagittario è quello della Genesi capitolo 35 versi 2 e 3 in cui Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui allontanate i falsi dei che sono in mezzo a voi e purificatevi cambiatevi d'abito alziamoci e saliamo a Betel Betel significa letteralmente la casa di Dio ma per noi da un punto di vista metaforico cosmico è anche Betelgeuse che è in supernova e che esprime questo super carico di potenziale luminoso esplosivo in questo momento l'influenza di Betel come supernova in noi sulle nostre coscienze poco citata ma importantissima e mi alzerò e salirò alla casa di Dio e salirò a Betel ascenderò a Betel e là farò un altare a Dio e Betel naturalmente è la spalla di Orione quindi ci riporta all'Orione non solo come luogo di scuola di lezioni carmiche e con i grigi e tutti anche i bianchi e neri del caso i guelfi e i ghibellini del caso ma è soprattutto il simbolo di un ritorno a un'età dell'oro leone dell'oro e quindi in questo caso come dire a Betel faremo un altare a Dio la spalla di Orione e Dio che mi ha esaudito e mi ha salvato nel giorno della mia paura e che è stato al mio fianco con me io non me lo scordo perché in questo viaggio che ho percorso c'era lui al mio fianco e quindi non dimentichiamo mai chi non ci ha mai abbandonato siamo fedeli in questo senso non i fedeli come viene detto comunemente altra parola abusata sono i fedeli i nostri fedeli nella chiesa no io perché sono cristiana in questo senso e non mi mi distacco dalla istituzione ecclesiastica in questo caso la nazione divina per me la nazione che coincide con chi riconosce la verità cristiana in questo senso in cui se ne sta parlando e quindi non disconoscere ma si riconoscente qui si parla appunto di riconoscimento come si diceva per Datt poco fa e quindi riconoscere anche chi siamo io riconosco me riconosco che sono io e che Dio e io siamo distanti una D e siamo quella D rappresenta la porta e come dire naturalmente non dimentichiamo questo e sempre rispondiamo come rispose il cieco tornato a vedere in un passaggio dettato da Cristo alla Valtorta nel libro L'Evangelo come mi è stato rivelato e di cui ho fatto un mini audio che vi lascerò in descrizione il 19 maggio abbiamo Marte congiunto al nodo nord ci chiede di ampliare ed elevare la nostra visione vedere da una prospettiva più alta quello che sarà diciamo il nostro campo da gioco e i suoi protagonisti come esperienze o come personaggi come fenomeni possiamo dire e naturalmente viene ricordato che la guerra dovrebbe essere ritenuta un crimine ci vorrebbe un codice di leggi collettivo umano universale basato sul fiore della vita in cui questa è ritenuta fuori legge e bandita ma d'altronde il decalogo già c'è in merito cerchiamo di integrare la forza marziale belligerante di Marte come fuoco creativo e positivo e integrarla per la costruzione non per la distruzione per la medicina e la guarigione la madre di medicina viene a chiederci di onorare la nostra conoscenza interiore ancora riportata alla memoria di dat e naturalmente è meglio e preferibile essere beniamini della luce piuttosto che guerrieri della luce siamo abbiamo il coraggio di essere figli della luce beniamino significa figlio da ben ebraico e quindi siamo beniamini della luce anche letteralmente come figli appunto come dice anche Gesù a Maria Valtorta e anche un altro passaggio riguardo alla nascita della nuova umanità come bambino divino viene portato sempre dalla Valtorta in questa espansione della conoscenza nel libro L'Evangelo come mi è stato riberato che ha scritto un'infinità di volumi in cui si descrive l'arrivo dei magi guidati dalla stella ora noi siamo quei magi anche questo ci riallaccia alle origini dell'umanità e della parola magus su questo passaggio probabilmente farò un audio video a parte naturalmente e metterò questo audio video ancora non creato solo concepito nella mia playlist sincromessaggi l'espressione di questo aspetto di Marte potrebbe essere impetuosa reattiva nel mondo anche per i singoli nei loro mondi individuali viene chiesto di appunto elevare la prospettiva a quella di una madre di medicina spazio e tempo sono una mera unità di misura anzi di rappresentazione dei fenomeni dell'infinito spazio e tempo rappresentati nel piano cartesiano come forma di rappresentazione appunto circonda te stesso con l'energia protettiva sono rappresentazioni dei fenomeni nell'infinito e servono per localizzare questi fenomeni nell'indeterminismo e in questo senso indeterministico parliamo di sincronicità per il resto però è cibernetica topologica pura ovvero noi siamo il topos il luogo di esercizio del potere in noi stessi noi siamo il topos lo spazio e il tempo solo noi ci individuiamo nel piano infinito e siamo quello che siamo nel piano infinito portata all'attenzione naturalmente la geometria del numero 543 ricordandoci che non siamo soli in questi rapporti speculari di riflessione non sentiamoci isolati c'è una connessione che trascende la connessione fisica ed è una comunità animica quella che viene sottolineata qualcosa si è costruito dentro di noi e ora è il momento in cui l'energia del cosmo ci chiede di lasciarlo uscire il grande maestro che ci chiede di apprendere dalle esperienze spirituali ed essere luce per altri luce nel mondo sentendoci amati e confortati da questa figura di Cristo e ci permette con questo sentirci quindi sani nella nostra radice amati e confortati e non dovendo temere perché siamo protetti ci permette di sbloccare la nostra magia interiore qui nell'area del miracolo del cambiamento della compassione del cuore e della sinergia con l'energia dello sciamano mistico che viene a chiederci di credere nelle forze superiori che ci governano nella nostra comprensione binache frutto di ricezione e ascolto e discernimento nelle prossime due settimane comunque scopriremo cosa significa questo per noi ma per questo in questo momento non ci possiamo sedere sui nostri sentimenti occorre esprimerli e naturalmente farlo nella forma più costruttiva funzionale possibile e non nella maniera conflittuale o anche non prendere la verità di un altro come un attacco occhio a questo tipo di fraintendimento come 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 dire ti esprimo la mia verità rispetto che in qualche modo rappresenta per te una sorta di negazione o di no tra virgolette ma io ho diritto di esprimere questo no se lo voglio esprimere e non dà diritto all'altro di esprimere un giudizio rispetto al mio no perché un mio no può essere un tuo sì e viceversa in ogni caso è tempo di esprimere noi stessi e di lasciare che le cose inutili superflue escano dai nostri sistemi e la lunazione della piena in sagittario può illuminare questo conflitto tra logica e intuizione in maniera maestra tra credenza e fede e questa luna piena illuminerà le nostre vite e tuttavia diciamo questi nuovi sentimenti e rivelazioni sono molto emotivi perché c'è un senso di emozione che irrompe nella nostra coscienza proprio per quel fattore unificante di cuore e mente che si esprimono come già detto in altre occasioni in un'unica parola nella tradizione ebraica ed è la parola lev dalla gematria 32 su cui numero potremmo aprire un video e un ma lo quindi procedo sono informazioni che come dire do vi troverò la parola che sto cercando saltuariamente diciamo do e vengono in sincronicità con delle letture le informazioni soprattutto anche sul numero 32 ma in ogni caso appunto osservazioni che vengono fatte in questa fase è la luna che osserva il sole sono le osservazioni dal maestro sagittario al gemelli madre di medicina e madre terra che vengono insieme con Cristo in questa sincronicità sulla nostra capacità di sbloccare lo sciamano interiore lo sciamano è uno che ascolta d'altronde adesso al di là della diciamo nella metafonetica potremmo dire che shema la parola israeliana la parola ebraica che significa si dice shema israel ascolta israele alla stessa radice ma procediamo quindi non con foga non con fretta con calma lentamente perché non vogliamo perdere ulteriori punti di vista interpretazioni possibili vogliamo mantenere appunto questa prospettiva dell'aquila scusatemi le onde del campo naturalmente siamo abituati alle onde ma prospettiva dell'aquila che diventa colomba e che è la nostra protezione questa prospettiva più elevata ed è funzionale appunto a uno sblocco delle nostre capacità e del nostro potere del nostro plesso solare del nostro cuore radice chakra 1 3 4 portati in attenzione casualmente il passaggio di Osea era il capitolo 13 verso 4 ma in ogni caso lo stavo rilevando in questo istante quindi non andiamo piano perché non vogliamo restringere il campo di energia non vogliamo ottunderlo ma può essere abbracciato in forma più ampia conducendo in questo campo più opportunità e possibilità che vengono dall'infinito potenziale più persone con le loro esperienze più elementi che vengono come dire altrimenti se ci muoviamo troppo velocemente rischiamo di non vedere di non cogliere di non considerare di non riconoscere considerazione ergo presenza e quindi evitiamo gli eccessi di impulsività fretta insicurezza appunto traducibili come mancanza la gatta frettolosa fa i gattini ciechi si diceva questa fretta comunicativa conflittuale oppositiva avversiva ad avversario e avverso e forze avverse ci rende ciechi al vedere altri aspetti e punti di vista e possibilità le circostanze avverse creano in noi stessi il nostro avversario e allo stesso tempo sinergicamente è il nostro avversario interiore che crea circostanze risonanti ovvero avverse quindi trasformare l'avversario in alleato a livello umano generale in principio individuale collettivo per l'ampliamento del campo di esperienza per non come dire provocare un ristringimento del campo di potenziale e quindi potenziali anche segnazioni e blocchi e non doverci poi trovare a passare come dire come un cammello a Gerusalemme per la cruna del lago in questo senso e quindi rilasciare il superfluo è questo passaggio come dire in questo contesto è un'espressione sinergica sì ma dell'ignoranza e non della conoscenza è una risultante della nostra ignoranza ovvero del fatto di non vedere di non riconoscere di infiniti possibili altri punti di vista chiaro che occorre scegliere il proprio i propri punti di fuoco e focalizzazione ma non sulla base di un giudizio che non siamo tenuti come dire che non ci pertiene ma sulla base di un servizio di una funzionalità di questo fuoco di questa focalizzazione a un campo che non sia solo il nostro piccolo campo fazzoletto di terra individuale ma che sia sul nutrimento del comunitario di un piano più grande in cui tutti siamo uno appunto come il formicaio in seno rappresenta o l'alveare per esempio come dire la scelta migliore si fa conoscendo approfonditamente raccogliendo più informazioni possibili personalmente la responsabilità della propria conoscenza sul numero maggiore possibile di possibilità interpretative delle esperienze come segno segnale e fuoco semiotico sinodico sinottico sinergico del campo magico della manifestazione e al contempo sapendo che è sempre tutto perfetto sia nel tempo sia nel piano divino e che ha una ragione per ogni nostro passo e che lo allinea in ogni caso funzionalmente al suo proposito che quindi non c'è una via sbagliata sostanzialmente questo suo proposito che per sua natura si sfugge ed è così che deve essere incomprensibile misterioso ineffabile magicamente misterioso il mistero è il grande mistero ma riguardo al cui progetto d'amore non abbiamo dubbio alcuno quindi come dire l'ombra del dubbio anche va considerata in questo caso il sole in gemelli sarà praticamente operativo con giove e con venere ma soprattutto giove governerà con la sua energia appunto questa lunazione anche in quanto governatore naturalmente del sagittario e su giove come governatore del sagittario da una freccia di guerra a una freccia di pace abbraccia l'energia della pace metti come dire deponi le armi e abbraccia l'energia della pace la freccia spezzata le linee spezzate ancora una volta ci portano agli incongiunti ai quinconti in astrologia in sincronicità in questa fase quindi il sagittario ci chiede di vedere una visione panoramica e ci insegna a vederla da un piano più alto della coscienza dalla coscienza maestra sull'albero maestro dell'arca e l'idea del benessere in particolare anche questa parola viene messa all'attenzione perché deve essere riconosciuta deve essere restituita al suo pieno significato perché la società i bianchi e neri della società hanno subliminalmente convinto che il benessere sia relativo a una sfera economica ovvero inconsciamente quando si parla di benessere subito ci viene in mente un qualche status symbol prima ancora di pensare al benessere del corpo dello spirito della mente del cuore dell'anima quindi se ci soffermiamo per un secondo appunto rispetto anche alle parole che sono nel nostro campo e sono simboli e sono segni semioticamente ci danno la cibernetica di campo e quindi le coordinate i parametri sul piano finito di un campo infinito queste se ci soffermiamo vediamo quali associazioni automatiche vengono fatte per esempio l'idea del benessere associata magari a un concetto di comfort di agio di natura magari materiale e quindi avremo modo di rivedere profondamente questa limitazione semantica da seme semiti e protosemiti in questo caso e semini e coglieremo l'espansione di questi semi prima a livello subconscio e poi a livello cosciente e questo processo non è basato sulle diatribe nazionaliste questo processo è favorito dal piano divino e potrà risultare naturale qualora vi porremo il fuoco della nostra attenzione quindi la focalizzazione lo terremo in conto ci faremo caso come si dice è l'oste che va tenuto in conto nei nostri diciamo appunto quando si dice non fare i conti senza l'oste questo è l'oste in questo senso e lo noteremo lo osserveremo e questa è la condizione perché l'effetto catartico possa essere innescato ricordiamo che il nostro libero arbitro viene automaticamente polarizzato così come il campo magnetico dal nostro punto di fuoco non solo da dove siamo posizionati nella nostra si costruivano le torri di vedetta ma non solo il luogo in cui il punto in cui siamo posizionati nel campo per vedere ma anche verso che cosa è diretto il nostro sguardo la nostra comprensione la nostra attenzione il fuoco di questa nostra visualizzazione mettere a fuoco appunto il lavoro del diaframma diaframma del terzo occhio e diaframma del nostro cuore e il pneuma ruach il nostro il soffio divino in noi Dio che ci attraversa in forma d'aria il fuoco della comprensione sarà indirizzato all'ampliamento dei significati anche di parole abusate entrate nel linguaggio comune svuotate del loro senso più profondo chiarezza la rivoluzione linguistica intesa anche in questo senso sarà uno dei passaggi primari e fondamentali della nuova era nell'ingresso appunto della nuova terra in una nuova era per l'umanità abbi il coraggio di gioire connesso alle tue emozioni e quindi provare la gioia abbi il coraggio di provare gioia e felicità ci soffermiamo anche un attimo sulla parola gioia interessante che in questa parola sia contenuto il tetragramma divino anche se è una parola di cinque lettere e quindi unisce in qualche modo tetragramma il pentagramma in questa parola gioia è contenuto vungio il bambino divino dal punto di vista runico ed è contenuto questo bambino divino con yod che è anche appunto il dito di dio dito del fato in astrologia ed è contenuto appunto anche questo yod con yeshua yesod il segreto di questo della gioia l'eccesso di criticismo viene anche suggerito è come un mostro marino che avvelena il bambino interiore lo avvelena e lo lo mette nella spira del serpente viene fatto presente questo in questo momento la congiunzione di giove venere in gemelli è quasi esatta è una congiunzione estremamente positiva padre celeste per l'elevazione dei principi e dei valori e quindi la restaurazione dei veri valori delle vere scale di valori la rivisitazione la rivoluzione il ribaltamento delle scale di valore del mondo che i nostri anziani conoscevano bene come dire dopo il terrore delle guerre i nostri nonni adesso mi riferisco a un passato recente cioè a un minuto fa neanche qualche secondo fa in questo senso visto che diciamo nel tempo dell'universo noi siamo nati neanche da dieci minuti in questo in queste proiezioni di proporzioni che cambiano col punto di vista ancora l'aquila aquila su aquila credi nel mistero nello sconosciuto questa è la nostra focalizzazione e naturalmente si diceva appunto dicevano gli anziani la salute è la prima cosa salute e salvezza abbiamo detto stessa radice appunto la parola salute la salute è spirituale mentale emozionale fisica o economica anche la salute abbraccia un ampio campo semantico e quindi con Sedna in gemelli che viene appunto dall'acqua e dalla madre di medicina verso una nuova terra generata dal padre celeste dal grande maestro solare e il sole è anche in questa fase appunto sincronica della sua attività dalle profondità del mare Sedna dà vita ai delfini alle balene quindi anche agli ancestri in questo senso e quindi sorge una nuova forma di vita risonante e nuove forme di vita letteralmente verranno prese in considerazione verranno scoperte nuove medicine nuove soluzioni che vengono dalle profondità delle acque e anche del nostro corpo emergeranno insieme a una nuova città una nuova terra sommersa che lì emerge da dentro di noi che si risveglia e porta alla luce metaforicamente e letteralmente l'invisibile anche in forma concreta stesso dicasi per quanto riguarda l'oceano cosmico l'oceano del cosmo che è l'insieme in cui l'oceano sulla terra metaforicamente viene incluso e ovvero che il nostro oceano terrestre terreno è solo una metafora dell'oceano del cosmo e che l'oceano del cosmo è solo una metafora dell'oceano del sé della consapevolezza che è solo una metafora di Dio e Sedna alimenterà le grandi scoperte le metamorfosi la metamorfosi umana che risale dalle profondità per camminare su una nuova terra per creare nuovi regni più giusti esce dalle acque rompe gli schemi di tradizioni oscurantiste che precedenti e in particolare legate al monopolio della tra virgolette bestia perché non voglio che si associ agli animali alle creature che cantichiamo con San Francesco e quindi però legate al monopolio patriarcale o comunque al sistema non equo delle polarità e quindi ai sistemi di prevaricazione di prepotenza di pretesa e Nettuno è in un meraviglioso sestile con Venere e Giove e anche Sedna sebbene fuori segno questo sestile pertiene a questo sestile e questo sestile viene a costituire la base del quinconce detto appunto dito di Dio dito del fato Nettuno naturalmente è in pesci e Giove è l'antico governatore dei pesci e quando avviene un aspetto di questo tipo il potenziale mistico aumenta esponenzialmente quindi abbiamo un forte sostegno dal punto di vista del piano divino in questo nostro passaggio evolutivo e ascensionale possiamo dire o trascensionale trascensionale considerando anche che Nettuno è al ventinovesimo grado dei pesci detto grado anaretico grado critico potremmo vedere una sorta di immersione di una dimensione spirituale dalle profondità anche laddove era insospettabile e potrebbero esserci per chi è già su un cammino spirituale profonde rivelazioni profondi risvegli e comprensioni a nuovi livelli di una stessa parola nuovi livelli di una stessa esperienza crescita ascensione accelerata passaggi di stato e di frequenza che si possono esprimere in maniera differente per la metamorfosi per andare oltre questa forma e il dito di Dio ha un sestile appunto come detto come base Nettuno Venere Giove Sedna il il sestile è la base di questo triangolo isoscele e i due quinconce che hanno un angolo di 150 gradi e sono i lati di questo isoscele rappresentano appunto il dito di Dio che va a puntare nella carta astrologica di questa luna proprio a Aumea la dea hawaiana della fertilità e della creazione delle isole Hawaii creatrice nella sua essenza del fuoco delle otto isole vulcaniche delle Hawaii che vengono ritenute comunque l'apice della civiltà lemuriana come dire un altipiano di quella che era l'antica terra di Lemuria in ogni caso Sedna e Nettuno sono gli altri due vertici alla base del triangolo e questo implica dei salti quantici evoluzionari enormi anche con Vesta nel segno del cancro cui poi citeremo che comunque dea della casa del focolare domestico dea dell'idea appunto dea dell'idea di questa nostra casa come terra come casa rispetto ad Aumea diciamo Aumea è pionieristico anche nel nome perché quando venne scoperta fu il primo nuovo pianeta appartenente comunque alla fascia esterna degli asteroidi detta la cintura di Kuiper fu il primo pianeta a non avere più un nome di divinità greca o romana e quindi simboleggia un aspetto emergente anche per quanto riguarda le credenze spirituali e questo è forse uno dei messaggi oltre a quello della creazione della fertilità del fatto che lei abbia il ma che lei cioè questo bastone con cui è in grado di generare dal nulla e quindi ci riallaccia al potere del mago il fatto che lei possa partorire da qualsiasi parte del suo corpo rispetto al quale appunto si presume abbia partorito le sue stesse lune i suoi stessi pianeti il pianeta all'inizio quando è stato trovato come dire scoperto ed è questa una non coincidenza che è però anche una coincidenza di elementi era circondato da cinque pezzi di ghiaccio e due lune che sembrano proprio essere state staccate dal suo corpo a causa di una collisione e con la stessa Aumea abbiamo otto corpi celesti proprio come riflesso nelle otto isole delle Hawaii quindi Aumea è idea della fertilità del parto delle piante selvatiche della natura rappresenta anche il fuoco e la roccia che da questo fuoco si forma sulle isole vulcaniche il fuoco che forma la terra proprio come l'energia forma la materia e i vecchi isolani dicevano che le Hawaii sorsero dal mare come corpo dello spirito e infatti tutto ciò che riguarda Aumea è per eccellenza madre natura senza alcuna linea di demarcazione tra l'umano che abita nella natura e la natura stessa e quindi c'è una risonanza profonda con l'energia creazionale con le origini vulcaniche naturalmente questo simboleggia anche le scoperte vulcaniche esplosive nella scienza evoluzionistica e quindi come dire anche Aumea sembra rappresentare la crosta terrestre e naturalmente viene ricordato per esempio nel 2010 e quando il 2010 che è anche appunto lo scorso ciclo iniziato dalla congiunzione di Urano e Giove come si diceva all'inizio di questo video 33 minatori del Cile cileni intrappolati in una miniera sono stati salvati in una capsula di metallo trascinata attraverso la roccia proprio nella coincidenza di sole prima e poi mercurio che si andavano a congiungere ad Aumea e naturalmente c'è anche la concezione di un mondo come dire spirituale oscuro e misterioso come dice Beckworth nel 40 dietro la leggenda di Aumea un mondo spirituale oscuro senza forma presieduto dall'elemento femminile e un mondo di forma nato dal mondo spirituale al quale ritorna contrassegnato da un'energia maschile reso visibile e attivo in questo mondo la vita umana attraverso la luce come elemento maschile fecondante naturalmente anche Aumea ricorda anche l'idea dell'integrazione della parità sociale ovvero del fatto che le risorse sono per tutti che devono essere equamente distribuite è come dire la negazione delle oligarchie economiche in questo senso anche e Aumea Makemake per quanto riguarda le divinità australiane che attualmente è in bilancia ed è il dio dell'uovo della creazione l'uovo che è il simbolo dei simboli in questo senso ovvero simboleggia proprio il simbolo ed Eris anche erano tutti rispettati perché sono come dire i sentimenti le energie le risposte naturali dei viventi e della natura che si formano e che vengono come dire a formarsi nell'entità degli dèi tutte le cose sulla terra sono intrise di questo potere magico di questa forza di questa energia è che abbiamo perso il nostro rapporto con l'ambiente e quindi occorre risintonizzarci e la tecnologia deve essere in funzione a servizio e va reinserito il sacro ritmo che è naturale che è femminile non ha niente a che vedere quei maschilismi i femminismi che sono parimenti di atribe inutili e superflue viene anche fatto presente quawar come oggetto della cintura di koi perché è in capricorno altro segno di terra e che è ricordato perché danzò è il padre di tutti gli dèi e danza gli dèi in esistenza così come noi siamo questi dèi veniamo danzati dalle onde divine nell'esistenza e nella forma salacia dea dei riflessi della luce sull'acqua e in ariete come fuoco che precede che segue naturalmente il passaggio di Nettuno e Saturno in pesci prima citato è in trigono alla luna così come lo stesso Marte c'ha riclo moglie di Chirone consorte di Chirone in acquario con Plutone rafforza il lavoro di Chirone che cura il futuro nodo nord come fosse un bambino e Bungio il bambino cosmico in ariete viene anche fatto notare a Fez nel cancro che traduce le emotività e le doti medianiche di questo segno psichico estremamente medianico nella poesia nella canalizzazione degli inni al nostro creatore e Plutone intrigono i pianeti in toro e anche a Venere in gemelli sebbene fuori segno e rafforza l'energia trasmutativa la forza il nostro terzo occhio ghiandola pineale energia transustanziante di Sedna quadrato ad Aumea in Scorpione Saturno in suo stile i suddetti pianeti che sono in trigono a Plutone ma è quadrato alla luna e Saturno è il vecchio l'antico in pesci naturalmente con Nettuno riporta alla luce non solo gli elementi di severità delle acque unito a Goncun l'altro asteroide sempre nel segno dei pesci quindi alluvioni esondazioni che possiamo vedere da varie parti del mondo temporali di proporzioni apocalittiche eccetera ma riporta alla luce antiche lemurie antiche memorie perse negli eoni fra le spire del serpente che egli stesso è avvolto alle radici dell'Igdrasil stesso serpente che tentò Eva lui che porta l'idea della mela toroidale e porta la terra di Nio e di Nion anche come albero del Logam e porta la terra ad una riemersione dalla memoria un toroide che riemerge dalla memoria collettiva e che ha come centro il pentagramma che è un pentagramma su cui si compone una nuova armonia oltre che il nome divino e oltre che anche la diciamo faccia frontale di un dodecaedro stellato e quindi porta la terra a riemergere dalla memoria con tutto il fuoco del sole in gemelli e di Marte in ariete e questa informazione quindi viene alla luce del sole niente di nuovo sotto il sole ma in ogni caso chiaramente prorompendo veloce nella realtà tridimensionale ecco le stanze dell'apprendimento gli spiriti guida le conferme le grandi lezioni l'attività dei vulcani sottomarini intensificata anche suggerito anche quella delle faglie oceaniche che sbuffano come locomotive a vapore come grandi camini di grandi industrie Varuna sul suo coccodrillo veicolo in leone opposto a Plutone in acquario ci ricorda che il tempo e la vita sono un fiume il tempo è come un fiume ed è metaforico della vita il fiume della vita da cui discende l'idea del tempo oltre che il fiore della vita il fiume della vita è questa linfa che come dire si convoglia nel toro del fiore toro toroide naturalmente tarotorota eccetera eccetera ma il toro del fiore è il ricettacolo del fiore da cui discende proprio quella uscita diciamo il fiume della vita da cui discende l'idea del tempo stesso dopo l'uscita dallo stato di immortalità di infinitezza di Ain Sof nel Sof che è non solo conoscenza e sofia ma è anche il finito rispetto quindi l'infinito Ain Sof la luce infinita rispetto alla luce finita diciamo l'uscita dallo stato di immortalità che si mantiene dentro al giardino dentro al paradiso terrestre i quattro fiumi che escono dall'Eden è vero che questo fiume non è mai lo stesso fiume Pantarei ma è vero anche che sia dalla sorgente dall'alfa all'omega è nell'entità lo stesso fiume perché è la stessa è perché è comunque lo stesso elemento acqua e le due verità pure opposte sono coincidenti in un'unica verità e per cui ci viene detto sei allineato col proposito non c'è una via sbagliata in questi incroci e di significato come coesistono teoreticamente possiamo dire queste due verità opposte nello stesso tempo vere come per esempio la stasi e la dinamica la prima magari non esiste nel divenire ma la seconda non esiste nell'eternità ma entrambe esistono nell'unione e nel mondo delle idee della concezione del concepimento dell'immacolata concezione di questo logos che scorre sgorgando dalla sorgente nella dimensione divenente ovvero che viene doppiamente cioè andata e ritorno dualmente il logos è filologico che scorre profonda guarigione cellulare che si afferra come scia di stella per guidarci alla coscienza cristica o divina e come filo rosso nel labirinto del tempo i suoi intrecci intricati i meandri siamo chiamati a rispondere alla chiamata della nostra natura divina in questo senso al contempo in un coincidente tempo questo filo rosso del labirinto del tempo sottende tutta la dinamica di mutamento che è il divenire in materia nella forma e nella realtà nella formazione la discesa in forma dalla divina matrice in un'altra matrice matrioska matrioska matrix il campo magnetico terrestre è il ragno cosmico che tesse la realtà è autore di una matrix del divenire la divina matrix è il ragno divino in cui tutto il resto viene incluso e ne è parte come cellula di un organismo che è uni e pluricellulare essere e non essere coincidono nella stessa verità questo è il respiro del cosmo questo è ruak la mia volontà e la tua volontà coincidono il bisogno del cuore anzi il desiderio del cuore il bisogno dell'anima e la volontà del cosmo sono uno il tempo è dunque un paradosso così come lo è il grande attrattore a 14 gradi del sagittario proprio perché essere e non essere coincidono nella stessa verità eraclito appunto sostiene che ci sia un logos anche oltre al pantarei che è sottostante a questo continuo mutare a tutto si trasforma e un'armonia profonda che governa in modo scuro e inconoscibile questa perenne dialettica fra gli opposti che provoca il divenire perpetuo degli enti sensibili e in alcuni passaggi lo paragona proprio al fuoco rispetto al quale fuoco Eris sempre in ariete quindi con Marte tanto fuoco in questa luna di fuoco anche in sagittario naturalmente è quadrata Cerere Cerere Dea dell'agricoltura e del cibo e del nutrimento in questo senso oltre che appunto madre di Proserpina e come anche appunto Demetra Persefone diciamo nelle alternative nominali è comunque su un piede di guerra per le proteste per un'agricoltura più giusta per una produzione etica per nuove forme tecniche di produzione che non siano l'exploitation che non siano lo sfruttamento barbaro delle risorse del pianeta e degli altri paesi degli stati sottosviluppati che erano pieni di ricchezze giacimenti minerari che si ritrovano nella fame e quindi retrograda a 21 gradi in Capricorno Cerere che è l'oggetto più grande tra l'altro della fascia degli asteroidi riclassificato nel 2006 come pianeta nano la fascia degli asteroidi interna in questo caso quella tra Marte e Giove e condivide come dire questa idea di rigenerazione in quanto è madre e l'unione di madre e figlia in questo caso quindi anche come possiamo dire triade superna unita a Malkuth la realtà mondana o binà anche unita a Malkuth e quindi come dire madre del figlio e della figlia in questo senso può simboleggiare con la sua posizione così vicina alla terra una protezione e lealtà materna verso la razza umana e allo stesso tempo appunto la rigenerazione perché naturalmente è madre di Proserpina e che condivide con Plutone e quindi Plutone possiamo dire è il genero di Demetra di Cerere e Plutone o Ade naturalmente questa protezione verso la razza umana era molto evidente nei transiti del 2007 in particolare in alcuni eventi di agosto e settembre di quegli anni Sedna naturalmente come dicevamo che simboleggia anche gli uragani e la pioggia e che ha questa energia anche essa plutonica di rilascio del vecchio di cambiamento dei sistemi di credenza conservatori ciechi ottusi in questo senso anche appunto ricordiamo il mito di Sedna se n'era fatto un video tanto tempo fa e questo video sarà già molto lungo per cui magari apriremo una parentesi riguardo al mito di Sedna rapida nel senso che appunto innamorata di uno straniero contraviene alle norme della tribù il padre per il disonore la carica su una barca ha intenzionato a ucciderla ma e quando sul momento di farlo si scatena una tempesta terrorizzati entrambi il padre per sbrigarsi la getta giù dalla barca e lei si aggrappa con tutte le forze al bordo della barca tanto che il padre le deve tagliare le dita questo è da una parte il tradimento del patriarcato rispetto all'equità del femminile alla libertà di idee di espressione di sentimenti anche il tra virgolette appunto la manipolazione di un sistema conservatore non basato su giusti valori ma su false credenze e su un sistema di prevaricazione sostanzialmente quindi ecco detto questo Ceres e Ceres o Cerere o Demetra e Sedna lavorano in maniera congiunta in questo senso perché possa essere ricreata questa nuova terra e naturalmente è anche la dea del grano Demetra e quindi riguarda questa divinità anche la cura del seme umano dell'embrione al bambino alla fanciulla alla madre sia anche la cura che il contadino dà al seme del mais corn che è la stessa radice krn di cuore corona cernunno horn corno quindi eccetera eccetera anche di questo se ne è parlato più volte ma in ogni caso mentre emerge dall'oscurità da questo mondo sotterraneo del suolo per diventare per uscire sotto la luce del sole germogliare diventare una piantina maturare essere raccolta e poi restituita al ciclo della terra in attesa di essere nuovamente piantata e quindi anche appunto restituita ai silos sotterranei del grano per essere piantata nuovamente cerere presente anche nella fine delle cose nelle conclusioni nella morte nella perdita nel lutto ma emerge con noi anche nella nascita nella fecondità e nella crescita quindi tante energia plutonica in campo con una doppia missione quella dell'essere operatori di luce e semi stellari ma soprattutto appunto servire il mondo essendo chi veramente siamo essendo noi stessi e non schiavi dei falsi sistemi dei falsi valori delle mistificazioni e illusioni di questo mondo e naturalmente questa promozione di cerere a pianeta nano già indica in sé dal 2006 quindi in questo processo di anni non solo un aumento dell'energia matriarcale o femminile ma anche una fonte di conforto vicino a casa familiare protettiva serve anche come promemoria per onorare il pianeta terra a volte se vero promemoria per onorare il pianeta terra i cicli e le stagioni ricordiamo la rabbia di Demetra quando non trovava più la figlia che cosa successe nel mito e vi invito a cercare mentre Vesta invece appunto tiene acceso il sacro fuoco dell'energia della grande madre nelle psichiche acque del segno del cancro governato dalla luna qui abbiamo l'arcangelo Zacchiel con l'accettazione del sé la compassione il perdono viene portato all'attenzione il coro degli angeli troni e metatroni anche in questo senso e quindi i serafini anche quindi governati da Nettuno e metatron e diciamo appunto Vesta in questo cancro governato dalla luna è maestra in questo senso di tenere di sacralizzare tutto questo fuoco a disposizione di questa lunazione il fuoco del nucleo terrestre il fuoco dell'energia della grande madre la grande divina madre matrice della materia ha un ruolo primario maestro in questo salto evolutivo conferma le parole di Cristo in merito all'ascensione che può avvenire solo passando attraverso la madre e rientrando in questo sacro divino grembo in cui diciamo si uniscono in questa doppia missione il grembo cosmico e quello terreno che sono delle metaforiche risonanze l'uno dell'altro l'arcangelo Raziel e Zacchiel vengono portati all'attenzione la saggezza l'ispirazione i registri acascici siamo metafore e metaforieri di Dio padre madre figlio e figlia e spirito santo amen il tuo eterno spirito il 25 26 di maggio martes sarà congiunto esattamente al grado dell'eclissi solare totale dello scorso 8 aprile in ariete ne riattiverà l'energia e quindi come dire ci può essere una riattivazione di quelle che sono le energie innescate intorno all'eclissi e con il giusto grado di motivazione carica vitale ed energia per portare a termine le idee concepite in quella fase e i nostri progetti con l'energia del sagittario in particolare dell'asse sagittario gemelli ci potrebbe essere anche una forte tendenza alla dispersione dell'energia all'intermittenza alla discontinuità energetica anche rafforzata appunto dalla potenza di urano dalla sua congiunzione proprio con giove che governa il sagittario e dall'attività solare e cosmica quindi siamo invitati a tenere e Betelgeus viene a essere viene a chiedere di essere ricordata in questi passaggi tenere presente questo fatto e quindi implica applicare i principi insegnati dalla natura ancora una volta in ambito termodinamico e quindi la conservazione dell'energia e l'emissione energetica strutturata per una durata nel tempo quindi perché possa coprire quindi lungimirantemente formulando un progetto di continuità energetica individuale collettivo che richiede naturalmente piccoli punti piccoli passi per essere portato a termine in linea continua e quindi non un'esplosione ma una gestione strategica dell'imbastitura energetica che ci conduce direttamente al plenilunio successivo in Capricorno che sarà la porta dei cieli ovvero un forte momento in cui avremo l'espressione concreta del nostro co-creativo potere e la creatività sarà estremamente potenziata quindi siamo invitati a usarla con coscienza come strumento in grado di produrre esperienze eventi realtà di liberazione o schiavitù come si dice anche nella stavacra vita e coinvolgere non solo noi ma anche altri in una rete di interconnessione in cui tutti siamo uno uscire dalla gabbia toracica far uscire il proprio cuore farlo liberare dal nostro principio cristico ecco l'aquila e questa è la metamorfosi lasciare andare esce questa libertà liberazione liberazione dal karma anche siamo in una rete di guarigione interconnessione sintonizzazione purificazione energia sciamanica raddoppiata in questo in questa lettura passi coscienti come detto in bastitura considerata ponderata che guarda avanti e quindi ha come dire questa gestione corretta dell'energia l'energia generale per questa per questa lettura è quella della percezione per quanto riguarda questo mazzo quella del guardiano del cuore l'amore lasciati amare ama e lasciati amare per quanto riguarda questo mazzo usato e qui abbandonarsi le braccia del divino arrenditi tieni uniti gli opposti e non ti perdere negli estremi agli antipodi della vita e della forma ma sii unito e nel tuo fulcro nel tuo cuore centro corn corn core il kernel potremmo ci sono tantissime parole che hanno questa radice questo senso semantico potremmo dire logico di significato upgrade della luce solare del plesso solare il fuoco interiore la forza di volontà e quindi naturalmente questa volontà ama e lasciati amare risulta essere questa la direzione la fiducia a rendersi a rendere la nostra forza di volontà il nostro potere al fuoco interiore al sacro fuoco divino che brucia in noi questi sono i mentori spirituali le nostre guide che ci insegnano ad usare i nostri talenti in questa fase di svolta di grande cambiamento per l'umanità e per la crescita e la nascita più che altro per il riconoscimento e il ritorno dell'umanità al principio e quindi un principio anche genetico con questo messaggio vi saluto e vi auguro una buona giornata vi ringrazio e a presto ciao